Mi capita spesso di affilarmi io le lame e anche di stradarmele, dunque per stradarmele utilizzo una pinza come questa, in questo momento è regolata per questa, i denti del nastro sono orientati, la stradatura cos'è? L'orientamento dei denti in maniera alternata per permettere il miglior scaricamento del trucciolo, quindi di conseguenza la lama si scalda di meno tagliando il legno. Allora utilizzandola così mi inclina il dente verso destra, utilizzandola così da questo verso mi inclina leggermente il dente dall'altra parte a sinistra. I denti sono, allora, generalmente sulle lame sono uno dritto, uno a destra e uno a sinistra, uno dritto, destra e sinistra, sempre così. E vanno stradati in maniera tutti uguali, con questa pinza qua l'inclinazione che si dà che sia a destra che sia a sinistra è sempre lo stesso. Conviene mettere un pezzo di nastro da dove si inizia, mano a mano proseguire, si può fare per comodità, io molte volte per comodità faccio quelli tutti a destra, capito? Poi riprendo e mi faccio quelli tutti a sinistra. Per rinfrescare l'affilatura, altro non faccio che utilizzare una specie di dremel che ho, con una molettina che lascio apposta per affilare i nastri. E tenendo sempre la stessa inclinazione faccio... Faccio... Allora non c'è bisogno di costruirsi un qualcosa per dare sempre... Basta appoggiare l'avambraccio qui al bordo del piano in ghisa, darsi questa angolazione così più o meno, capito? Ricalcare diciamo la stessa angolazione del dorso del dente e poi far scendere la lama in questo modo, capito? Via via, appoggiando questo sul dorso del dente. Poi in seguito io cosa faccio? Una volta che ho leggermente smerigliato tutti i dorsi del dente, comunque ogni tanto è bene mandarla ad affilare, a stradare da chi lo fa con le macchine.